Benvenuti a Sky Sport. Oggi è un giorno importantissimo, parliamo del rugby, parliamo delle sei nazioni, il trofeo più prestigioso nel mondo del rugby. Sono molto dispiaciuto di non essere lì con voi, purtroppo sono all'estero, non sono riuscito a rientrare in tempo stamattina. Un saluto a tutta la squadra, a tutto il team azzurro, in particolare al mio omonimo presidente Marzio, che saluto con particolare affetto. Come dicevo, il rugby è un posto importantissimo all'interno della Casa dello Sport. Quest'anno seguiremo addirittura la Nazionale Italiana con 26 telecamere, poi avrete tutti i dettagli dai colleghi in studio. L'anno scorso siamo andati vicini a almeno tre vittorie, a mio avviso. Quest'anno c'è stato un cambio a livello di allenatori, quindi un grande bocca al lupo a tutto il team, al coach e penso che quest'anno, spero che quest'anno sia la volta buona. A presto e Forza Italia, Forza Rai!